Immigrazione, sicurezza ed economia, tre temi di stretta attualità in tutte le parti d'Italia e anche Macerata ha voluto portare il suo contributo, grazie a Forza Italia. Il tema dell'immigrazione collegato a quello della sicurezza sono temi sui quali era ora, anzi ora passata, di aprire un dibattito con le migliori forze sane e le intelligenze della città e del territorio e proprio per questo Macerata meritava questo dibattito, abbiamo soltanto avuto l'idea di attivarlo ma abbiamo avuto una risposta prontissima di tante forze di centrodestra che ci aiuteranno ad aprire finalmente una riflessione, un tavolo da un punto di vista sia politico, sociale e culturale su questa tematica importantissima che attanaglia, preoccupa la vita quotidiana dei cittadini, la sicurezza e l'immigrazione. Tre i principali relatori che hanno dato il via ai lavori, il sindaco di Civitanova Marche, Ciarapica, il professor Rivetti dell'Università di Macerata e il giornalista Carlo Cambi, il primo cittadino riverasco da pochi mesi, si confronta con questi problemi da amministratore. Molto difficile, alle volte non sempre la legge ci viene in soccorso, ci viene in aiuto, alle volte è un ostacolo la legge però dobbiamo, come dire, sempre fare il meglio di quello che possiamo e da rappresentanti delle istituzioni dobbiamo comportarci dalle e quindi dialogare con le istituzioni sovranazionali, sovracomunali e collaborare insieme a loro per la risoluzione dei problemi. I tre temi del titolo del convegno sono strettamente collegati tra loro. Sicuramente quello che dobbiamo cercare in materia di sicurezza e soprattutto anche di immigrazione è l'affermazione di valori identitari, dove valori identitari non significa escludere l'altro ma sicuramente non cedere all'altro e su questo ci vorrebbe anche un intervento, come dire, sistematico finalizzato a trovare punti di equilibrio tra le comunità che intendono insediarsi nel nostro territorio e i valori non negoziabili del nostro ordinamento giuridico. Sull'immigrazione c'è una percezione sbagliata sia dal punto di vista di coloro i quali la rifiutano sia dal punto di vista di coloro i quali ne hanno fatto una sorta di bandiera ideologica per l'accoglienza. In realtà ci sono un sacco di fake news che girano sull'immigrazione e noi vogliamo cercare di mettere a punto un quadro il più possibile esatto sul quale poi decidere le politiche perché se continuiamo a fare una contrapposizione ideologica non si arriva da nessuna parte.